Vorrei dire alcune cose per me molto rilevanti su un piano metafisico e vorrei farlo a partire dalla distinzione che gli stoici operavano tra logos e lekton, entrambe parole che derivano dal verbo legein, dire, ma che hanno un significato molto molto differente. Il logos è un suono, fonè, che è però articolato. Ora, un esempio di suono è il roggito di un leone o il rumore delle onde del mare. Un suono può essere articolato. Se è articolato un suono è lexis, espressione. Però, per esempio, io non conosco il cinese. Se una persona mi parla in cinese, per me il suono articolato che esce dalla bocca del cinese non ha nessun significato. Se invece sento una persona che mi parla in italiano, quei suoni articolati hanno anche un significato, sono dotati di un significato, denotano delle cose. Per questo sono logos. Il logos è suono articolato e inoltre dotato di significato. Il logos dice qualcosa. Ebbene, il lekton non è il logos. La distinzione è sottile, ma secondo me è una delle distinzioni più importanti che sono state mai fatte in ambito metafisico. Sesto empirico ci informa che gli stoici distinguevano in un enunciato tre elementi fondamentali. Quindi, la cosa significante, la cosa che si trova a esistere, e poi appunto il lekton, la cosa significata, l'oggetto che viene ritratto. Bene, analizziamo questi tre elementi. Partiamo dalla cosa significante. Prendiamo, per esempio, il nostro enunciato classico, Socrate cammina. Beh, la cosa significante nell'enunciato Socrate cammina è il suono, è la parola pronunciata. Socrate cammina, appunto ciò che, il suono che esce dalla mia bocca che proferisce queste parole. La cosa che si trova a esistere è Socrate in carne ed ossa che là fuori sta camminando. Ciò che è lì fuori. Socrate che cammina. Questa è la cosa che si trova a esistere. Il terzo elemento, ed è questo l'elemento di rimente, è appunto il lekton. È l'oggetto che viene ritratto, è la cosa significata. Ebbene, dicono gli stoici, se la cosa significante è la cosa che si trova a esistere, cioè le parole pronunciate e l'oggetto disegnato da quelle parole sono corpi, sono corpi. Il lekton, la cosa significata è incorporeo. Il lekton è ciò che viene detto da un enunciato. Di qui la distinzione che rimane di rimente anche nella logica contemporanea tra la proposizione e l'enunciato. Tra l'enunciato Socrate cammina e ciò che viene detto dall'enunciato, che Socrate cammina. Se l'enunciato che designa Socrate che cammina trova un corrispettivo nella realtà, cioè effettivamente Socrate cammina, allora che Socrate cammina è vero. Ma se l'enunciato Socrate cammina e ciò che l'enunciato designa sono qualcosa di materiale, che Socrate cammina non è un oggetto, non è una cosa del mondo, non è cioè materiale. Qui ci dobbiamo anche intendere sulla nozione di oggetto. Che cos'è un oggetto? Un oggetto è tutto ciò che è disegnato da un termine. Il termine, che può essere singolare come Socrate o universale come uomo, designa sempre qualcosa, designa sempre un oggetto. Questa era, per esempio, una posizione metafisica che sorregge non solo il discorso platonico, ma anche il discorso aristotelico. Basti leggere le prime righe del deinterpretazione. In questo senso l'oggetto può essere inteso nel modo in cui lo intende la filosofia tedesca come ciò che sta di contro. Gegenstand. Quel gegen è proprio il contro. Ma ciò che sta contro non è necessariamente una cosa che io esperisco mediante i sensi esterni. Non so, se ho mal di denti e vado dal medico, gli dico Quel dolore mi sta di contro, ma non come un oggetto comunemente inteso. Cioè un oggetto che tocco, che vedo, eccetera, eccetera. Ma è comunque un oggetto. È ciò che esperisco. Io posso esperire anche, appunto, i dolori, le sensazioni. Posso esperire ciò che immagino, ciò che sogno. Non solo ciò che mi sta di contro ai miei organi di senso. Cioè a fianco ai sensi esterni ci sono anche i sensi interni. Cioè anche la fantasia, voglio dire. Ecco, il logos, l'enunciato, designa sempre un oggetto. Un oggetto che può essere esperito mediante i sensi esterni, che può essere fantasticato, può essere un oggetto universale, eccetera, eccetera. Insomma è sempre un designato dal logos. Ma che il logos designa un oggetto non è un oggetto a sua volta. È questo il lecton. Potremmo dire il significato. Propriamente il significato non esiste. Non è, cioè, un oggetto che sta di contro. Ma è l'orizzonte di senso mediante il quale, entro il quale, l'oggetto che sta di contro può manifestarsi nei limiti e nei modi in cui si manifesta. Il significato non è corporeo in quanto non è un oggetto ma è condizione di possibilità dell'apparire degli oggetti. Il mondo appare tanto al felice quanto all'infelice ma che il mondo sia un luogo gioioso o un luogo infelice non è un oggetto. Bene, questa distinzione tra linguaggio mondo, cioè logos da un lato, e lecton, metalinguaggio, dall'altro può essere bene esemplificata quando prendiamo in considerazione la ambiguità semantica del verbo essere. Essere può essere un termine e può essere copula. Come termine, essere può essere soggetto o può essere predicato. Come predicato essere è appunto un oggetto già che il termine designa sempre un oggetto in questo caso un oggetto universale. So, Socrate esiste in questo caso essere è un predicato che è appunto un oggetto universale. Ci sarà chi nel suo catalogo del mondo non mette questo oggetto universale in quanto è un oggetto solo di fantasia e gli oggetti di fantasia non ci rientrano. Altri invece lo porranno nel loro catalogo del mondo. ma essere può essere anche un soggetto non un oggetto. Si pensi a Sant'Ommaso d'Aquino l'essere è ciò la cui essenza implica l'esistenza è la condizione di possibilità della traduzione in atto di ogni essenza cioè dell'esistenza in atto di ogni ente ed è appunto un oggetto, Dio. In questo senso noi possiamo credere o non credere in Dio crediamo in Dio se crediamo nell'esistenza di questo oggetto la cui essenza implica l'esistenza cioè appunto essere inteso come termine che ricopre però la posizione di soggetto cioè di individuo e non di predicato cioè di oggetto universale ben diversa è invece la posizione della copula anche la copula è verbo essere ma la copula non è un oggetto è l'orizzonte entro il quale gli oggetti si danno se la copula è partecipativa il mio mondo appare in modo diverso rispetto al modo in cui il mio mondo appare se la copula è intesa in modo identitario se la copula è partecipativa il mondo è pervaso dalla contingenza e quindi permette il libero arbitrio se la copula è identitaria tutto sarà necessario e non ci sarà spazio per la libertà ma noi non possiamo dimostrare che il mondo sia dominato dalla contingenza o dalle necessità così come non possiamo dimostrare empiricamente che il mondo è un luogo gioioso o un luogo infelice non possiamo dimostrare ciò già che la condizione e la possibilità del darsi del mondo il significato del mondo non è un oggetto ma è appunto il modo in cui l'oggetto appare e la stessa nozione di oggetto potrebbe anche non rientrare nell'orizzonte di significato che permette l'apparire degli oggetti il significato è quindi non solo il darsi del mondo entro un certo significato ma è anche la presa di coscienza del significato che il mondo ha le categorie attraverso le quali ci muoviamo in modo pratico o teoretico nel mondo vengono messe in luce proprio su questo piano del significato che non è parte ma limite del mondo è questo in fin dei conti il problema più importante della filosofia moderna il grande problema della deduzione trascendentale delle categorie in fin dei conti il cuore pulsante della critica della ragione pura e della fenomenologia della fenomenologia dello spirito si gioca lì in quelle poche pagine che cercano di trattare la deduzione trascendentale delle categorie qui si pone un ulteriore problema al quale qui io faccio solo un accenno che è questo il metalinguaggio fa venire alla luce la deduzione trascendentale delle categorie cioè quali sono le categorie che usiamo all'interno di un logos all'interno di un linguaggio che parla del mondo ma a sua volta il metalinguaggio ha bisogno di una deduzione delle categorie ecco a questa risposta io qui in termini estremamente sintetici direi no nel senso che io posso metalinguisticamente fare una deduzione delle categorie utilizzando su un piano metalinguistico quelle categorie delle quali sto parlando e così il cerchio si chiude ci deve insomma essere una commensurabilità fra il linguaggio che parla del mondo e il linguaggio che parla del linguaggio i due linguaggi devono condividere le medesime categorie io posso spiegare la grammatica italiana linguaggio oggetto attraverso la lingua italiana oppure attraverso la lingua tedesca la lingua francese ma perché posso spiegare la grammatica italiana ricorrendo a queste lingue? perché la struttura linguistica l'orizzonte categoriale entro il quale queste lingue si muovono è un orizzonte categoriale condiviso quindi si chiudiamo il cerchio non si dà una deduzione trascendentale delle categorie a livello metalinguistico linguaggio che parla del mondo linguaggio che parla del linguaggio devono condividere il medesimo orizzonte di senso però la condivisione la commensurabilità necessaria fra i due linguaggi non ci deve far perdere di vista che i piani linguistici sono differenti l'apparire degli oggetti e il rendere ragione di quell'apparire sono due momenti metafisicamente incommensurabili così come incommensurabile è la separazione tra il livello del logos del corpo e il livello del significato dell'ectone e il livello del mondo